Musica Quest'oggi siamo qui al Pigneto per annunciarvi l'inizio dei lavori del tombamento del Vallo, il Vallo che vedete qui sotto. Questo è un intervento veramente molto importante perché significherà che queste due parti della città saranno unite finalmente, saranno quindi contighe e poi la novità importante per quanto riguarda i trasporti è che ci sarà finalmente un intervento che garanterà l'intermodalità e che renderà Pigneto uno dei nuovi più importanti di scambio della città. Infatti proprio qui in corrispondenza della fermata metro C Pigneto avremo un tunnel, quindi un passaggio diretto di comunicazione tra i treni regionali e chi dovrà prendere la metro C. Quindi questo è un intervento che la città aspettava da moltissimi anni e siamo molto contenti che oggi il Simo abbia, sicuramente il Simo serve il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, abbia firmato un servare per l'accessione delle aree a ferrovie italiane per iniziare questi lavori. Un quadrante, come sapete, nel corso degli ultimi decenni ha avuto delle caratteristiche storiche importanti, era un punto in cui c'erano delle fabbriche, in cui l'edilizia si è sviluppata attorno a queste fabbriche. Adesso questo sarà un intervento anche di riqualificazione e di rilancio di questa zona, quindi intervento di decoro, di riqualificazione, di intermodalità e di mobilità.